Carenza idrica, un problema che attanaglia il comune di Falciano del Massico. Abbiamo contattato telefonicamente l'architetto Aurelio Pedrilla, responsabile dell'Utc del comune di Falciano del Massico, per approfondire la questione. Architetto, tre domande. La prima, per quale ragione in alcune zone del Paese si registra questa carenza idrica? E effettivamente a oggi non risultano bene anche lì. Ho capito. Ma architetto, il comune e l'amministrazione sono corrette dei disagi che stanno vivendo i cittadini e soprattutto delle segnalazioni che i cittadini stessi e i residenti di determinate zone hanno fatto pervenire in comune. Sì, certamente. Il comune per la sua parte politica è molto giusto agli catti. Infatti ancora è iniziare un'ordinanza per il sindacale che chiede l'indirizzo dell'acqua autotabile per l'autodiversità, per quello alimentare. Penso non essere infatti delle vici che è per l'effettiva, per verificarne l'effettivo rispetto. Poi sinceramente sono infatti delle vici che è sulla comunità che serve a specificare se ci sono e ci sono sicuramente delle perdite che abbassano ancora di più la pressione e quindi evidenziano ancora di più il disagio rispetto. Terza ed ultima domanda. Serbatoio a Monte. Quanto implica l'opera di lavoro in corso di quest'opera sulla carenza idrica e se ci può dire infine a che punto sono i lavori per la costruzione di questo enorme serbatoio? La realizzazione di quali lavori sono stati posizionati e previsti solo per far conto al disagio rispetto. Attualmente i lavori sono in sostenzione per la carta di atteggiare la parte della regione in condizioni necessarie per la possibilità in opera che però a detta che i funzionari della regione non dovrebbero tardare a breve. quindi sicuramente la felicità dei lavori porterà un vantaggio alla gestione della storica istituzionale. possiamo chiudere questa intervista con parole che possano in qualche modo rassicurare i cittadini che stanno vivendo questo disagio? La rassicurazione è che comunque ci stiamo mettendo tutto per poter risolvere i cittadini dati simboli, i problemi che di volte in volta sospettano nelle cittadine potenze sia anche così in confusione realizzati. E' ovvio che purtroppo non abbiamo la testa magica, quindi nè per quanto riguarda il lato tecnico, nè per quanto riguarda il lato politico si possa superare il rispetto che a oggi è che ci sono un'intervista. Grazie.